Buon pomeriggio a tutti, amici e fratelli, rosa nero, amici in generale di YouTube, ieri pomeriggio si è disputata Palermo-Monopoli per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Non ho potuto fare il video ieri perché sapete che quando le partite sono in orario di lavoro e le vedo al lavoro non ho il tempo di fare il video, quindi con tutta calma e tranquillità lo faccio l'indomani e lo carico l'indomani, anche perché puoi analizzare la partita in maniera più lucida e meno calda, anche se quella è la parte che piace di più, lo so benissimo. Allora, un bel Palermo, ieri abbiamo visto un bel Palermo che ha vinto per 2-1, poteva segnare molto di più, l'approccio che abbiamo visto contro il Picerno mi è piaciuto, Sarà l'area della Coppa Italia o sarà che sono le partite giocate in casa come l'esordio in campionato? Spero che non sia quello il problema perché la metà delle partite le giocherai fuori casa, quindi se il Palermo ha quell'atteggiamento quando va a giocare fuori casa, diciamo che siamo un po' inguaiati perché non puoi basare il tuo campionato solo sulle partite casalinghe. Intanto ieri siamo andati agli ottavi, è una cosa importante perché a differenza degli altri anni dico che puntare sulla Coppa quest'anno è importantissimo perché se portassimo a casa la Coppa Italia sarebbe un trofeo che si va ad aggiungere all'albo d'oro del Palermo e per noi deve essere la nostra Champions League perché è comunque un trofeo che negli anni, negli annali, ti fa storia, ti fa bachiega, quindi cerchiamo di vincerlo e far capire che il Palermo ha una storia, il Palermo ha un blasone. Parliamo della partita di ieri, ripeto mi è piaciuto l'atteggiamento, tanti fraseggi, tante conclusioni, tante giocate e anche è vero che dietro rischiamo sempre un filo troppo, dietro sbagliamo delle chiusure, dietro sbagliamo quando vogliamo giocare dal basso perché a volte sbagliamo il passaggio e non capiamo qual è il compagno libero, dietro c'è da lavorare, mister Filippi in difesa vedi di lavorare meglio perché dietro rischiamo troppo. Siamo passati in vantaggio con un calcio di rigore, strameritato, prima del rigore ne avremmo potuti fare altri, rigore tirato da Fella in maniera impeccabile perché il portiere indovina il lato ma è così angolato che non ci può arrivare mai, quindi complimenti a Fella per come ha calciato il calcio di rigore. 1-0 per il Palermo, il Palermo che sembra chiuderla con il 2-0 di Valente, un bellissimo scambio che porta al gol Valente, veramente andatevi a vedere l'azione perché è veramente bella, abbiamo rischiato di rimettere in partita il Monopoli con un errore del portiere, ricordo che ieri non parava Pelagotti, ieri parava il secondo portiere, su un cross del genere un portiere non può essere indeciso, deve uscire subito, andare a smanacciare con i pugni se non riesce a bloccarla la palla, quell'indecisione è costata cara e il Monopoli ha accorciato le distanze, dopodiché non si è visto più tantissimo e Palermo sul 2-1 ha capito che doveva controllare per non rischiare troppo ed è riuscita in questo modo a portare a casa una vittoria importantissima. Spero che la partita di ieri, l'atteggiamento di ieri, le giocate di ieri le rivediamo in campionato, spero di vederle qualche volta anche in trasferta perché non possiamo sempre patire le pene dell'inferno in trasferta, non stai andando a giocare all'Anfield contro il Liverpool e chi hai se 30-40 mila persone che ti cantano You'll never walk alone contro e quindi ti frastorni e non riesci a giocare, cioè stiamo sempre parlando di campi che sono semi vuoti, quindi non te la puoi fare addosso ogni volta che è in trasferta, mi raccomando, voglio rivedere questo atteggiamento, contentissimo del passaggio del turno, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale di Luigi Rosa Nero, nel bene e nel male, comunque sempre Forza Palermo!